Bentornate e bentornati a Visioni, Rai, secondo ciclo di incontri a cura di Grio in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Addis Abeba. Incontreremo artisti e artisti, produttrice e produttori culturali itali e etiopi e insieme a loro esploreremo la loro vita, il loro lavoro, la loro visione, Rai in amarico, sulle molteplici sfumature dell'essere italiani ed etiopi, tra presenza e assenza entro confini geografici, culturali e sociali. La nostra ospite di oggi è Liliana Mele, attrice. Ciao Liliana, benvenuta, come state? Ciao Joanne, bene, grazie, grazie dell'invito, veramente un piacere stare qua. Liliana, tanta tanta televisione, un po' di cinema, doppiaggio, cortometraggio indipendenti, oggi stai esplorando un po' di più il mondo del teatro. Come nasce l'interesse per la recitazione e soprattutto come inizia e si sviluppa la tua carriera di attrice? Da bambina sicuramente, però forse si è concretizzata durante l'adolescenza, quando stavo in Etiopia l'Istituto Italiano di Cultura ci aveva dato la possibilità di partecipare a un laboratorio teatrale. Quello è stato il contatto diretto, il primo contatto diretto con il palco, con la realtà delle prove, degli esercizi, del debutto. A 17 anni ho la possibilità di partecipare e vincere la finale di Misti Italia nel mondo, dove sono arrivata a quarta e questo mi ha aperto un po' le porte del mondo dello spettacolo. Il primo lavoro attoriale l'ho avuto con Carlo Verdone, sul set dell'amore eterno finché dura, e poi subito dopo ho lavorato con Luca Verdone sul set del suo film Viva Franconi. Poi è arrivata Mina, che è stato un personaggio che ho interpretato per due stagioni consecutive, per una fiction Gente di Mare che all'epoca aveva avuto successo. Poi da lì una serie di esperienze, di ruoli da protagonista femminile assieme a Daniela Marra, è questo film con il protagonista Beppe Fiorello, per la regia di Giulio Manfredonia, che racconta appunto la storia di Mimmo Lucano, ambientata a Riace. E questo, insomma, ci ha fatto una carrellata veloce dagli esordi ad oggi. Sei divinata di tutte le esperienze attoriali che hai avuto, c'è un ruolo a cui sei particolarmente legata, cioè c'è un personaggio che ti porti ancora dentro? Eh sì, ce ne sono, vabbè, prima di tutto l'esperienza con Carlo Verdone perché è stata la prima, quindi è quella indimenticabile, quella che mi ha dato là. A Mina mi ci sono molto affezionata perché è stato il primo ruolo che è durato così tanto, per due anni, e quindi mi è entrato proprio nella quotidianità. E anche proprio anche sul set di Gente di Mare che è stato importante perché mi ha fatto quasi da palestra. L'ultima di Riace è stata molto importante, molto bella, proprio perché c'è stata veramente una magia sul set. Il cast era molto affiatato, Beppe Fiorello, Corrado Fortuna, Daniela Marra, Sulemon. Poi era un cast anche multicolore, anche questo è stato molto bello. I bambini misti, Italo qualcosa e trentagioni di set magici. Speriamo che arrivi presto nelle nostre televisioni, visto che insomma ha avuto un po' di intoppi. A livello artistico, come diciamo tu, spazi tra cinema, teatro e televisione. Di questi tre mondi hai delle preferenze? Quali ti senti che riesci a farti emergere di più artisticamente per Orlando? Allora, io ho una grande riverenza per il teatro, per tutto quel mondo classico, perché credo che sia la base su cui ti devi formare perché ti rende più completa. Se devo pensare a me stessa, invece, mi sento molto a mio agio sul set. Amo proprio l'odore del set, i tecnici, la confusione che si crea, i momenti di attesa, la ripetizione delle scene 50.000 volte e sì, la macchina da presa. Insomma, il mondo del set mi piace molto, mi sento molto a mio agio. È ovvio che sono due mondi paralleli, sono fratelli, però sono cose diverse, e quindi è anche difficile fare una scelta. Il teatro è anche una metafora di vita, quindi è insostituibile, diciamo. No, no, ti capisco, è sempre difficile scegliere, è sempre difficile rispondere, soprattutto quando un'arte, insomma, è mossa dalla passione, vabbè, oltre che alla tecnica, all'esperienza, allo studio. Tornando invece in Etiopia, hai i tuoi primi passi nel mondo del teatro che mi dicevi, hai fatto appunto all'Istituto Italiano di Cultura di Isabeba e da bambina, però recentemente da adulta sei tornata in Etiopia per fare una ricerca sul teatro etiope durante il regno di Les Lassie. Ecco, come si intreccia la tua storia personale, la tua vita in Italia e in Etiopia con questa ricerca? Io sono venuta quando avevo sei anni, venivo dal Sudan perché sono nata in Etiopia, a Gondar, però mio padre faceva il capitano di lungo corso, quindi girava molto il mondo e quindi ogni tanto per stare appresso a lui, per vederlo, eccetera, noi tutta la famiglia dovevamo andare in nave, quindi mi sono vissuta molto la navigazione, il viaggio, il mare, la nave stessa. Poi a 14 anni mia madre ha avuto una forte nostalgia per l'Etiopia, cioè voleva tornare, quindi siamo tornati. Per me inizialmente è stato, diciamo, un po' traumatizzato perché comunque avevo gli amici, il fidanzato, però una volta arrivata in Etiopia mi sono ambientata e poi insomma da lì l'esperienza del teatro, del laboratorio, eccetera, che mi ha portato, mi ha riportato in Italia a 17 anni, come ho detto prima. Poi dopo una serie di esperienze televisive, lavorative, siccome non mi ero ancora diplomata, ho deciso di dedicare un periodo allo studio. Dopo il diploma mi sono laureata e poi c'è stato il rientro in Etiopia dopo tantissimi anni che non rientravo, quasi dieci anni. È stato un rientro molto magico e siccome stavo già studiato, stavo studiando appunto letteratura, teatro, stando là in Etiopia mi è venuta spontanea questa domanda. Dico, adesso studio molto sul teatro italiano, francese, inglese, spagnolo o anche sulla letteratura, però ci sarà una storia qui in Etiopia o anche in Africa in generale, una storia della letteratura, una storia del teatro. Quindi sentivo proprio un buco, questo buco di mancanza di informazione. Lì ho deciso di vedere uno spettacolo teatrale, ero rimasta sorpresa, molto sorpresa e lì ho deciso di fare questa, ho detto la mia tesi magistrale, la voglio fare sulla storia del teatro Etiope. E così è iniziata questa avventura che inizialmente mi sembrava un'avventura semplice, una cosa divertente. Poi è stato molto faticoso, molto diciamo, sì, è stato molto faticoso trovare delle fonti scritte perché c'è pochissimo scritto su questo, sull'argomento. Sono stata contenta di vedere i professori che, dicevo, che hanno detto, insomma, che si sa poco, no? Sull'Africa, sul teatro, sia in Africa o nelle singole nazioni, che nel senso che ci si aspetta che non ci sia molto, invece c'è molto da scoprire. Io ho semplicemente, ho aperto, diciamo, uno spiraglio, dico c'è un pozzo qua, però, insomma, c'è ancora tanto da fare. E cosa ha significato per te questa esperienza, questa ricerca, sia da un punto di vista personale che culturale, ovvero l'importanza di far ancora più luce sull'esistenza del teatro Etiope e su questa lunga tradizione? Inizio da quella culturale a una maggiore consapevolezza, anche il fatto di vedere, oltre anche il confine, no? Anche il fatto di vedere che in Africa c'è, c'è tanto, c'è tanto da scoprire. In Africa in generale dico proprio in Etiopia, però proprio perché secondo me la carenza è proprio in tutta l'Africa, non è tanto l'Etiopia. Per invece, la mia esperienza personale, io ho sempre desiderato sapere, conoscere la storia dell'Etiopia, che è una cosa che non avevo. E quindi, attraverso questa passione, attraverso anche l'università, ho legato le due cose, la passione del teatro e della letteratura, la curiosità di scoprire la storia dell'Etiopia e delle mie mezze origini. Grazie, grazie tante Liliana. Spero per tutti e tutte di riuscire a fruire di questa ricerca in qualsiasi formato, insomma, tu poi la voglia sviluppare. Ti ho garantito buona fortuna in bocca al lupo con il proseguo di questo lavoro e grazie mille per essere stata qui con noi. Ciao, grazie a te, Giovanna. È stata una bella chiacchierata. Ci vediamo la prossima settimana con un nuovo ospite di Visioni, Rai.